Gli auguri per queste feste di Natale della giovanile dell'Ese, Aldo Mor, responsabile del settore. Faccio gli auguri di buone feste a tutti i ragazzi, agli allenatori e alle loro famiglie. Buon Natale, buon anno e basta. Gli auguri di Zardomenico Bertolini, allenatore della Juniores. Faccio tanti auguri di buon Natale e di buon anno a tutte le famiglie e a tutti i ragazzi della dell'Ese. Gli auguri della coppia di allenatori, dagli allievi Tita Capuzzi e Graziano Barbieri. In stereo. Ringrazio la società, faccio gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo sia alla dirigenza della dell'Ese, ai ragazzi e alle loro famiglie e grazie della vostra collaborazione. Anch'io mi associo a quanto detto dal mio amico e rivolgo i miei auguri a tutta la società dell'Ese, a tutti i ragazzi, tutti i dirigenti. Le ringrazio per quello che hanno fatto quest'anno per noi e spero che continueranno a fare. Buon anno a tutti e buone feste a tutti. Simone Pasolini, allenatore dei giovanissimi, gli auguri per queste feste natalizie. Faccio tanti auguri di buon Natale e buon anno alla società, al mio staff e a tutti i ragazzi e le loro famiglie. Grazie a tutti e a tutti i ragazzi e a tutti i ragazzi e a tutti gli allenatori che si sono impegnati per portare avanti la crescita di questi ragazzi, alla dirigenza, alla società e a tutti i genitori. Grazie.